Di diverso avviso il fronte del turismo e della ristorazione. Lavoro assolutamente all'introduzione di Vauce è che nella formula così impostata siamo esclusi con quelle che sono evidentemente le preoccupazioni e le lamentele di fronte a una prospettiva discriminante perché si danno gli elementi di flessibilità all'agricoltura e al settore ricettivo e si esclude il settore che nel settore del turismo è il settore prevalente in termini di occupazione e di fatturato insomma che il mondo della ristorazione e del fuoricaso in generale. Il settore dà lavoro a un milione e mezzo di persone e oltre 240 mila solo in Lombardia.